Ciao da Mr. Helmet, oggi cercherò di fare una cosa che non ho mai fatto, cioè reagirò ad un mio stesso video che ho fatto e quindi cercherò praticamente di rompervi il c***o con un video facendo, reagendo ad un video che in passato viaggiano Ok, quindi attenzione, allora questo è un video del 28 dicembre 2002 e parla della soppressione della Supersport 300 e del lancio di una nuova classe in Superbike Ok, se vi piace tutto questo iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, supportate Mr. Helmet con le donazioni, lo shop, i super stickers, i super grazie e l'abbonamento Ok, abbonamento a partire da 3 centesimi al giorno, è così che date una mano a chi fa contenuti che poi alla fine io li metto gratis, va bene, però è come scroccare il giornale, dai qualcuno ci ha lavorato E poi, Supersupporter e Sugar Daddy hanno le notizie direttamente su Whatsapp Ritiro fuori questa copertina, l'avete visto questo video? Forse no, perché praticamente fa schifo la copertina, quindi capisco che non ci sia stato un grandissimo appeal però in realtà questo parla della nuova classe Supersport che si potrà chiamare Super Twin, non lo so, che praticamente affiancherà la Supersport ci sarà ancora molto probabilmente, ma andrà al posto della 300 è stato fatto il lavoro, uno studio delle analisi con dei documenti, dei dati, eccetera per cui vi prego di supportare Mr. Helmet Ah, volevo dire, sono usciti anche le nuove t-shirt come questa in versione bianca e nera, ordine fino al 5 luglio dopo chiudiamo gli ordini e le produciamo e saranno limited edition faccio partire il video e parlo di questa nuova classe e delle motivazioni che quest'ultima dovrebbe avere, ok? quindi è importante, vado avanti e inoltre non sono nemmeno lontane parenti da quelle a cui dovrebbero preparare chi le guida parlo delle 300 e dico che il campionato è divertente, le moto si vendono però non preparano i piloti, ok? non attirano gli sponsor, non attirano i media non rendono i piloti pronti al passaggio successivo ci sono altre moto che si vendono per andare su strada non solo nei paesi emergenti ma anche in Europa e di certo non parliamo delle Superbike e nemmeno delle Supersport 600 che nella variante poi meno frazionata arrivano a essere mille sono troppo potenti anche quelle e troppo sovradimensionate per l'uso di tutti i giorni troppo estreme e scomode per poter essere godute fuori dalla pista quelle che si usano quindi si vendono quindi sono moto dalla parvenza sportiva ma comunque accessibili ok, non la Panigale V2 non le R6 che non sono più neanche in fish non quelle sulle 600 da 170 cioè delle bestie ok, ma delle moto sportiveggianti più o meno della stessa cilindrata ma magari bicilindriche o trecilindriche più tranquille, più moderate più alla portata ok, parlavo di questo e guidabili sono sportiveggianti già di serie e o vanno forte o possono essere pepate ex post volete sapere quali sono le moto del futuro delle derivate di serie sono quelle gareggiabili ma anche vendibili in quanto circolabili e acquistabili da questo poi capiremo che nuova categoria nascerà e intanto ve le faccio vedere iniziamo con l'Aprilia RS660 che è un bicilindrico fronte marcia 660 una fetta di RSV4 poi ci sono le CF moto 650 poca potenza non è naturalmente usabile per le competizioni così com'è questa moto ma c'è qualcosa e si può fare è lo stesso motore delle Kawasaki praticamente R650 la famosa Kawasaki Ninja 650 che ha circa 70 cavalli poi ci sono le Suzuki SV con il bicilindrico AL650 allora oltre a queste io ve ne aggiungerò altre di moto una fesseria l'ho detta sulla Ducati vi parlerò anche di quella un qualcos'altro da correggere su KTM e vi aggiungerò una moto nuova molto importante ma attenzione che le moto sono queste ok state bene attenti perché queste le vedremo correre in realtà le vediamo correre già molto vendute negli USA e di prossima sostituzione occhio a questa moto poi c'è la Yamaha R7 con motore 650 più o meno sì CP2 bicilindrico fronte marcia che ha circa 75 cavalli ma vedremo che le cose stanno diversamente da così ci sarebbe poi la Ducati 695 SP che ha circa 80 cavalli e poi per quanto riguarda il KTM ci sarebbe il 790 che è un po' troppo ma lo mettiamo da parte e magari ne parliamo più avanti allora Ducati vi dico vi anticipo sta facendo un 690 un 690 e KTM anche ce l'ha il 690 quindi questo lasciate perdere era un video di dicembre attenzione ok quindi un video di dicembre e anche di Honda parliamo un'altra volta attenzione che ci sono fino adesso così come ve li ho fatte vedere grosse differenze fra queste moto dal punto di vista dei motori perché il motore Aprilia è potentissimo con oltre 600 cavalli mentre il motore Yamaha CP2 ne ha circa 75 ma poi vedremo che possono essere molti di più si tratta il CP2 di diciamo così di un motore multiruolo che viene utilizzato così com'è ovunque mentre il motore Aprilia è un motore da corsa diciamo così multiruolizzato allora il motore Aprilia verrà depotenziato per essere in grado di competere ad armi pari con queste altre moto qualche altra moto invece verrà chittata ok però che quando viene usato ad esempio sul Touareg viene mappato con 20 cavalli in meno e quindi depotenziato ricordiamocelo questo gli altri motori citati invece hanno da metà della potenza in su e quindi non vanno bene ma abbiamo visto tutti che tipo di ridimensionamenti e configurazioni si possono fare dal punto di vista elettronico per capire meglio la nuova categoria dovrebbe essere quella dei bicilindrici fino a 7800 con ridimensionamento della potenza delle Aprilia e un certo tipo di kit per gli altri in modo da pareggiare la faccenda ok questo l'ho detto ok a questi bicilindrici aggiungiamo un'altra moto ok che è un tricilindrico ed è per esempio il 660 Triumph quello che è sul Trident ci sarà una Daytona un Daytona 660 o una come adesso accade una 675 che è una street triple che viene Daytonizzata ok è importante essere onesti cioè se diciamo così se le cose rimanessero così per questo campionato ci dovrebbero essere più o meno solo due case di cui solo una veramente competitiva ma elettronicamente e dal punto di vista dei kit sono moltissime le cose che si possono fare del resto anche la Triumph Super Sport è una street triple carenata e quindi questo vuol dire che con i dovuti accorgimenti tanti possono entrare in gioco sia perché sono già pronti sia perché possono esserlo con qualche kit e qualche modifica in modo da soddisfare i mercati giusti chi pensa che tutto questo sia una cazzata a chi pensa questo e che dice che magari questa cosa non si possa veramente fare vi dico che questa cosa la stanno già facendo negli Stati Uniti nel moto america esiste una classe che si chiama revit sponsor twins cup race fatta apposta per facilitare il passaggio dalla stg junior cup la loro 300 per intenderci e la super sport e vede c'è anche oggi questa classe anche quest'anno nel 2022 fra regolari e wildcard ci sono stati 87 partecipanti su aprilia naturalmente ma anche yamaha e suzuki ovvero le moto che ho citato sopra e sorpresa delle sorprese quest'anno il titolo non l'ha vinto la moto naturalmente migliore dell'otto bensì cioè l'aprilia bensì una yamaha blake davis su yamaha ha rifilato 20 punti a jody berry e antony maziotto su aprilia gli stessi punti che gagni su yamaha ha rifilato a petrucci su ducati che pure all'uscita dalla fabbrica è una moto migliore è il regolamento che fa tutto ok quindi o meglio il pilota che ha battuto ben 3 aprilia dimostrando che le yamaha sono equivalenti volendo alle aprilia se non migliori e lo saranno anche le suzuki dopo che amamatsu ha dichiarato di voler sostituire il bicilindrico 650 che abbiamo visto prima con il nuovo 776 della gsx8s nel caso facessero rientrare le suzuki potrebbe rientrare io non so se questo succederà però diciamo che insomma è possibile così come non ci sarà un 790 di ktm ma ci sarà molto probabilmente un 690 e il motore ce l'hanno sarà che aprilia finalmente riuscirà ad avere un ambito racing nelle derivate di serie a parte il v4 1100 che sta cercando di omologare mentre le altre case come yamaha faranno partire un bel mercato di kit racing per andare a giocarsela con la moto italiana e ma i kit chi li potrebbe fare per yamaha faccio un esempio il numero 1 in europa e forse nel mondo è per questo tipo di cose tenkate che infatti ha siglato già un accordo con yamaha e nello specifico con yamaha thailand per gestire questo tipo di faccende e la parte motori delle corse in asia dopo un importante passato con onda lo sapete il team olandese e vabbè vabbè poi si è riciclato eccetera quindi guardate che bravo che ero che mi cito da solo e mi do anche ragione adesso guardate come dico racing però insomma a dicembre 2022 ho detto questa cosa adesso non so se già dal 24 si farà ci vuole sicuramente tempo però anche la 300 l'hanno tirata fuori così in pochissimo bisogna fare sicuramente qualcosa per i piloti bisogna fare sicuramente qualcosa per lo spettacolo bisogna fare qualcosa bisogna togliere alle case delle moto che vendono però bisogna dargli in cambio le corse con delle altre moto che vendono una 300 da noi non è credibile non aiuta nessuno non forma i piloti è divertente però alla fine non la guardano neanche i genitori le gare e quindi invece con queste moto qui che sono quelle che se tu vai sulla Flaminia trovi ok ragazzi poi ce ne saranno tante ci potrà essere MV ci potranno essere tante soluzioni anche tante cinese ci sarà Cove J ci saranno veramente tante altre che ho dimenticato più le imprecisioni che ho fatto mi perdonerete su dei motori su dei modelli piuttosto che in altri perché sono passati dei mesi e magari nascono altre piattaforme ma grosso modo questo è quindi spero che questa cosa abbia un senso spero di aver ravvivato un video che come al solito passa in cavalleria quando do le informazioni troppo presto e dopo arrivano e io dico eh l'avevo detto 12 mesi fa e voi eh sì negli mesi fa tu sempre per primo ok ci tenevo a darvi questo nel weekend della superbike va bene e spero questa potrebbe essere veramente la classe che dà un senso a una super sport e potrebbe un giorno anche sostituirla che dà una preparazione per la super sport che ormai sono quasi superbike perché vanno fortissimo che toglie delle moto che sono anche quasi pericolose per l'eccesso di bagarre che c'è e porta dei soldi degli sponsor e quindi questa potrebbe essere veramente una bella mossa di Dorna io la critico sempre ma questa volta potrebbe non essere male che ne pensate sono riuscito a ravvivare il video con la copertina più brutta della storia adesso mi tocca fare anche quella nuova ok ciao da Mr. Emmett